Buongiorno ragazzi e buona settimana. Se non sbaglio, manca poco o meno di un mese alla conclusione dell'anno scolastico. Sarà un mese impegnativo quello che vi aspetta, fatto di verifiche, di valutazioni, ma soprattutto vorrei sottolineare la dimensione dell'impegno, che deve caratterizzare il vostro lavoro quotidiano sui banchi di scuola. Vorrei, in questo mese di maggio, dedicato alla Madre di Dio a Maria Santissima, davvero affidare tutti voi alla sua protezione, chiedendo che sia lei, sede della Sapienza, ad accompagnarvi nella vostra fatica. Sono certo che ce la metterete tutta, non soltanto per non avere qualche materia da studiare durante l'estate, ma soprattutto perché avete consapevolezza che il vostro impegno risponde alla vostra vocazione. Ed è proprio sul tema della vocazione che vorrei richiamare la vostra attenzione oggi. Stasera in Cattedrale, il Vescovo Claudio, con molti giovani della Diocesi, vivrà un momento molto particolare, dando il mandato a quanti parteciperanno alla Giornata Mondiale della Gioventù di Lisbona nella prossima estate. Sarà un momento molto bello. Spero che qualcuno di voi abbia la possibilità magari di parteciparvi alle 20 e 30 in Duomo. Vogliamo allora sentirci davvero tutti insieme a invocare l'intercessione di Maria per quello che siamo e per quello che siamo chiamati a fare. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Buona settimana a tutti e buon lavoro. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.